eccoci e bentornati sul mio canale riprendiamo con la beta di dragon ball xxenoverse 2 vediamo un po questo c'è il garald qui può ottenere importanti informazioni sulle missioni sui comandi rivolgiti a me per ogni dubbio cosa vuoi sapere con town city spostarsi informazioni mappa ok ragazzi a proposito vi volevo dire dato che mi sono dimenticato nello scorso video fatemi tutte le domande che volete praticamente sul gioco vi faccio vedere in questo in questo wall true della beta perché te ne vai in giro senza meta o lasciami indovinare stai cercando il vecchio caio l'ho visto camminare lungo la strada urlando di avere molto da fare pensavo che fosse diretto verso l'accademia ma all'improvviso è scattato verso l'arena di ricevimento poi inciampato spero che non si sia fatto niente l'area di ricevimento è giusto sotto quel grande tetto giallo tetto giallo laggiù dovresti averla sulla mappa ok quindi dobbiamo andarcene allora facciamoci tipo tutto il giro e dobbiamo arrivare allalala tetto giallo è questo qua dove siamo fammi vedere gerra ecco qua a cunel dobbiamo chiedere informazioni vediamo un po' se lui sa qualcosa vuoi sapere dove è andato il vecchio caio è uscito dall'area di ricevimento e si è diretto verso il covo del tempo il covo del tempo appena oltre quel portale dovresti averlo sulla mappa se dovessi perderti ricorda di consultare la tua mappa hai capito ok quindi dobbiamo andare nel portale del tempo quindi saliamo questa salita e ce ne andiamo su a cercare il vecchio caio solo che mi ha detto la ragazza o meglio la ragazza la caio uscina del tempo che purtroppo non possiamo volare al momento quindi stiamo ce ne buoni che se no si sa velena allora se andiamo nel tempio del tempo quasi sicuramente potremmo fare qualche mission cina ecco il vecchio caio finalmente ecco qua vediamo un po' che dice sei in ritardo cosa hai fatto in giro tutto questo tempo stai dando la colpa a me non dovresti attribuire i tuoi fallimenti agli altri ed è insolenti ascoltami bene ti è appena stata assegnata una missione molto importante è un grande onore solo un grande guerrero d'elite prima di te ha avuto questo compito dovrai viaggiare in diverse aeree in cui si sono verificati i cambiamenti nella storia e correggere gli errori ma è ancora molto da imparare per prima cosa dovresti fare tesoro dell'esperienza di chi ti ha preceduto quando cambia un evento della storia diventa più facile che si verifichino ulteriori cambiamenti per questo devi viaggiare nelle aeree in cui la storia è cambiata e fare il possibile per ripristinare gli eventi originali bene puoi andare ehi tu aspetta un attimo chi si vede il caio uscina del tempo e io che stavo giusto per prendere in mano le reti della situazione non c'è bisogno di tanta ostilità sono qui per condividere la mia esperienza in materia di combattimenti o davvero in tal caso puoi rimanere sì così è perfetto prima devi imparare tutto il possibile sul sul portale il tempo torna da me quando avrai imparato cosa significa essere un battaglione temporale la tua prima missione ti aspetta allora che facciamo sentiamo prima il caio uscina del tempo il saggio è potente caio uscina del tempo e qui per insegnarti i segreti delle battaglie dovresti considerarlo un onore iniziamo allora l'arte della battaglia completa tutte le sfide perfetto proprio quello che volevo sentire è fondamentale partire dalle basi iniziamo quindi una sorta di addestramento fatemi sapere che cosa ne dite ragazzi io direi direi di farci questa qui e poi torniamo a fare la storia tanto ai fini pratici i combattimenti sono quelli completa tutte le sfide inizia la battaglia aspetta che mi sistemo le confine cominciamo dalle basi premio benvenuto è le due per uno scatto con slancio per uno scatto vabbè ma dite che li facciamo rega ma cioè io direi di tornare a cotton city sinceramente l'addestramento lo possiamo anche evitare perché tanto l'abbiamo già fatto all'epoca con dragon ball xenoverse lo possiamo chiamare uno il primo titolo della serie del xenoverse e direi di buttarci principalmente sulle missioni così almeno ci gustiamo qualcosa di un po più corposo se siete d'accordo ovviamente poi se se volete continuo a leggervi tutti i dialoghi oppure ve li lascio in sottofondo però nel senso mi sembra pure brutto poterli fruire in questo modo io penso è così abbastanza bene non capisco come mai caricamenti sono così lunghetti nonostante sia sempre una beta che succede qua ok andiamo vuoi partecipare a missione con la pattuglia temporale spero tu abbia imparato a combattere come si deve certo questa è la tua prima volta nella pattuglia temporale assicura di seguire l'esempio dei compagni che ti hanno preceduto andiamo che missione e che era dovremmo andare ad affrontare i miei cari ragazzi lo scopriremo brevissimamente ok si comincia a viaggiare non so neanche quanto duri questa beta nel senso non come arco temporale era 7 61 dico proprio come durata oh oh special beam cannon piccolo piccolo ammazza che ingresso trionfale ammazza che ingresso trionfale pattuglia temporale tp e mo so cacchi tua largo al pattaglione galattico sconfiggi ratti allora vediamo un po' se mi ricordo bene i comandi ole vabbè non mi sto messo male eh schianto il meteorite super guardia ok mi ricordavo per poter ok mamma mia non ho perso la mano ma solo che non ci abbiamo ah le sfere energetiche non ce l'ha ah eccolo ok mi ricordo se facevano col triangolo invece no mamma mia che stiamo a fa' colpa il meteorite è sbloccato ce l'ha ancora bloccato questo ammazza si sconfiggi le ratti se non si preoccupi potrà dare il corpo di ratti mamma mia su 20 colpi abbiamo dato comunque graficamente è migliorato tantissimo eh proprio molto più nitido più veloce pure gli scatti è meno laggoso cioè se riescono a muovere molto più velocemente si i personaggi dove vai? non c'è neanche proprio a a reagire forza dai dai che vecchio manca oh cappa ce l'hai fatta punteggio ottenuto missione completa minatore abile con le combo grado z nuovo livello attivuto 0 2 chissà se sti livelli che adesso stiamo facendo ci ritroviamo poi nel gioco completo e che cosa stai adesso piccolo lo lo special beam cannon non 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 ci che Ragazzi, avete visto? A me la cosa non mi piace per niente. Mi sembrava Bardak, a me mi sembrava quello di spalle. Muovitemi un attimo. Ti l'hai cavata bene, ottime mosse. A parte l'entrata, vero? Goku e Piccolo sarebbero morti senza dire a proteggerli. Il tuo compito è correggere qualsiasi incongruenza si presenti nella linea temporale. Questa volta è stato facile, ma le battaglie che ti aspettano nel corso della storia saranno sempre più impegnative. Quindi continua ad allenarti perché solo i più forti possono correggere la storia. Ma perché il tuo maestro è uno dei caio più in gamba di tutto l'universo, non c'è molto di cui preoccuparsi. Ascolta i miei consigli e vedrai che prima o poi... Sì, abbiamo capito, non c'è bisogno di tutto questo. Sammi a sentire che hai uscine del tempo. Ho circa mille anni più di te, non sono poi così vecchio. Ma cosa dici? Vedendoti chiunque ti chiamerebbe vecchio. Non cercare nemmeno lontanamente di paragonarti a una ragazza adorabile come me. Ehi, pensi di essere adorabile? Dove lo trovi un cappello per coprire quella testa così grossa? Ah, da noi è tutto per ora. Ci risentiamo più tardi. Ok, allora. Avrei provato una... Noia mortale a furia di sentire i suoi discorsi. Dico bene? Ti accompagno fuori, prego, da questa parte. Ehi, wait! Non puoi andare subito così avanti. Mamma mia, con che si appiccicano sempre i due caio shin del tempo. Mamma mia, il giovane e il vecchio sempre. La rima e la raspa fanno. Vabbè, dai, la prima missione è andata molto bene. Vediamo quante altre ce ne abbiamo, se riusciamo subito a farcene un'altra. Almeno due insieme ce ne spariamo e poi domani torniamo con noi video. A proposito, fatemi più domande possibili sulla beta. Fatemi sapere soprattutto cosa volete vedere, se i negozi, se le specialità, le abilità. Fatemi sapere tutto quello che vi può interessare della beta di Dragon Ball Xenoverse 2. Così porterò domani un video dedicato. E' successo tutto quando Cotton City era conosciuta come Toki Toki City. La città è stata messa in pericolo da una persona malvaggia che ha stravolto il tempo. Un eroe si è fatto avanti per salvare la città. Anzi, per salvare l'intero universo con tutta quanta la sua storia. La storia che è corretto era già stata salvata da quest'eroe un tempo. Guarda, ecco l'eroe. Seleziona l'eroe di Cotton City. I giocatori che hanno trasferito dei dati da Dragon Ball Xenoverse potranno usare come eroe il personaggio del gioco precedente. Non è possibile però trasferire seguente abilità. Super Saiyan, Super Saiyan 2, il Kaioken, il Kaioken 2. Eccolo qua. Aman Tecnologia. Disegna il personaggio come eroe. Yeah! Ok. In questo personaggio sarà nominato eroe di Cotton City. Ok. Perfetto. Mamma mia. Ecco qua. E ci avevamo il mitico Aman Tecnologia su Dragon Ball Xenoverse 2. Figo, eh? Vedemolo un po'. Mo se dovrebbe vedere, che ne so, una statua forse. Come gliel'hanno creata la cosa. Su, fateci vedere. Sono curioso. Dai, fate vedere l'eroe. Che poi purtroppo non l'ho finito. Non mi mancava ne manco tantissimo, se non ricordo male. Era andato veramente tanto avanti. E alcuni non l'avevo provato perché c'ho pure problemi con l'Elgato. Eccolo. Con gli abiti di Slug. Allora non è stato uno spettacolo eccezionale. Continua ad impegnarti e un giorno diventerai anche tu forte come lui. Aspetto con impazienza di assistere ai tuoi successi. Ma non dovrai mai smettere di allenarti per uscirci. Visita l'Accademia e dai un'occhiata alle missioni parallele. Accettare le missioni parallele è uno dei doveri principali di un pattugliatore temporale. Se vuoi sapere di più, rivolgiti al robot al banco di ricevimento. Dovrebbe darti utili consigli o almeno spero. L'area di ricevimento è situata sotto una grande tettoia vicino all'entrata del covo del tempo. Vai a dare un'occhiata. C'è anche l'Accademia dei pattugliatori. È una scuola che addestra futuri pattugliatori temporali. Sta arrivando anche il vecchio. Hai molto da imparare da lui. L'Accademia è dall'altra parte della città, in quella direzione. È un grande edificio, lo vedrai sicuramente. Tutto chiaro? Ti ho dato molte informazioni, ma ho fiducia in te. Buona fortuna. Non puoi ancora usare il volo. Allora prendi questo. A presto. Che ci ha dato? Per salire o scendere da un veicolo? Per cambiare veicolo? Ah, finalmente. Freno. Esci. Mappa. Acceleratore. Movimento. Ok. Eccolo finalmente, regà. Vedi? Che figata. Allora, vediamo un po'. Possiamo fare una missione storia. Un'altra missione storia. Da che parte? Di qua. Voglio vedere un'altra missione storia, se siete d'accordo, regà. Eccola qua. Variati ricevimento. Vediamo un po'. Siamo quasi arrivati, dritto per dritto qua. Ancora un altro po'. Missioni parallele o guida viaggio? Facciamoci le missioni parallele, va? Ok. Vabbè, le missioni parallele tutti noi, ragazzi, le conosciamo. Vediamo se ce n'abbiamo qualcuna disponibile. Tutto. Diventa pattugliatore temporale. Completa la prova del vecchio caio. Vai. Iniziamo con la prima, va? Gli altri sono ancora bloccati, perché poi se non facciamo le missioni principali non si sbloccano. Io spero che si riesca a giocare un bel po' qui sulla beta, che almeno prendiamo un attimo di mestichezza col gioco. Con chi la facciamo? Con Goku, che dite? Goku GT. Goku non lo deve, va? Poi Io farei tre Goku, ragazzi. Tarts. Tarts. Ah, infatti, no, Bardock, era Tarts quello là. E... Ok, vediamo un po' che sfide ha preparato per noi il vecchio caio. Molto curioso, vediamo, vediamo. Diventa pattugliatore temporale. Completa le prove del vecchio caio. Inizia, battaglia. Bene, vuoi sapere cosa significa far parte della pattuglia temporale? Allora ascoltami attentamente. Iniziamo dalle basi. Per prima cosa attiva il tuo fidato scooter. Vedi tutti quegli oggetti sparsi a terra? Allora, raccoglili. Premi per usare lo scooter. Mentre usi lo scooter puoi visualizzare il livello di potenza dei nemici e alleati. Quando lo scooter rileva qualcosa, rileva il simbolo I. Premi cerchio sul simbolo per raccogliere l'oggetto. Io qua leggo nemico, ragazzi. Non so voi. Ah, materiale, ok. È ricevuto materiale. Poi. Vecchio, arcipelago, altro oggetto. Questi poi ci serviranno per potenziare le varie cose. Ok. Ottenere, vabbè, oggetti e abilità. Questo ok, lo conosciamo bene. Perfetto. Aggancia un portale con R1, avvicinati e cambia aria con cerchio. Buon viaggio. Stavo a leggere pure sopra, ragazzi. Tanto leggevate pure sotto i sottotitoli in italiano. Stiamo andando all'arcipelago. Puoi usare lo scouter per realizzare gli alleati. Dà un'occhiata se non ti dispiace. Livello 2. Cerca potrei trovare nemici o alleati. Vecchio Kai o... E 1. Quando un alleato K è indicato da un cerchio è possibile rianimarlo. Bene, ero uno per agganciare un alleato. E lo rianimiamo. Ok. Cioè ci stanno facendo rivedere forse pure per chi non ha giocato il primo. Che batosta. Ma chi ti ha beccato? Grazie, ne avevo bisogno. Qualcosa si sta dirigendo da questa parte. Chi è? Durante le missioni parallele a volte riceverai un avviso nuovo nel gioco. Va bene. Ecco qua. Che arriva? Ah! Mamma mia. Chi cacchio dei schifosetti. Dove stanno? I sidebile. E vieni qua. Bam! Kamehameha ce l'abbiamo ancora bloccata. Non è difficile trovarla. La Kamehameha qua. Sulla beta. Eccola. Bam! Mamma mia. Bellissimo. Guardiamo già la grande con la Kamehameha. Boom. Boom! Mi sembrano già diversi comunque alcuni movimenti e alcune mosse. Mi sembra già... Io ho utilizzato proprio come gioco. Sì, il primo. Ok. Ci manca questo. Di cui possiamo fare una bella Kamehameha. Ah! Mamma mia. Sì, lo penso sempre io a due altri entrati tutti. Dai. Secondo me adesso sai vai. Gigi, mi metto una luce perché non sono lì. Gigi, ci sono tutti. Aspetta, avverto qualcos'altro. Adesso ci stiamo. Il tuo scout può realizzare nemici nascosti perché non provi... ...durante una battaglia premix per cercare nemici. Penso sia quello, eh, ragazzi. Non lo acchiappavo, ah. No, no, questo è... ...Kaio. Quello, là. ...Kaioareman. Questo mi sfugge. Arriviamo, eh. Fa strano il tipo dentro al tempio un po' di monangiro invece qua. ...BOOM! Vieni qua. Ah, perché mi ha avanzato, mi so. Perché non... ...Vieni qua. Schifosetto. Stiamo a sventrar. Stiamo a attaccare quattro. Oh, nello. BAM! ...Mattene a quel paese, ma... ...a posto. Conclusione. Ottimo lavoro, hai fatto. Piazza pulita. Qualcosa si sta avvicinando. Un momento, ma quello è... Attenzione. Cambio missioni paralleli. E chi è? Oh! Attenzione! Yanko e Temzing addirittura. ...Incredibile, ma vera. ...A me Yanko non l'ho mai... ...Lo sapete, io Yanko non l'ho mai... ...SIGGERITO! ...Boom! Benissimo. Ma il Kaioken ce l'abbiamo? Non mi dispiace di utilizzarlo per sventrar. Bianco. Spinta Kamehameha. E uno è andato. E uno è andato. Vieni qua. Dove stai? Vieni qui! Vieni! Mamma mia, lo stiamo a sventrare. Forza, mi mancano 3 energie. Oh, forza. Non cappavo pure ipertensivo. Davvero niente male, perché non ti unisci a me? Conclusione suprema. L'abbiamo completata tutta. Perfetto. Oh, dovremmo anche salire di livello. Vediamo un po'. Perfetto. Da 2 a 5. Dobbiamo... Da 2 a 8 addirittura. Capsula energetica e capsula di energia. Una medaglia. E possiamo fare anche i potenziamenti. Perfetto. Direi ragazzi di vederci nel prossimo video con il World True della beta di Dragon Ball Xenoverse 2. Spolliciate il più possibile il video e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.